Facciamo ora un altro video con la Canon HFS21 Importante da valutare l'effettiva bontà dello stabilizzatore ottico che su questo tipo di videocamera è sicuramente fondamentale Ricordo il zoom ottico 10x Vediamo che ora sto camminando Si vede assolutamente il funzionamento del stabilizzatore che cerca di mantenere il più possibile l'immagine ferma Ma questo ovviamente non è possibile al 100% in movimento Ho fatto apposta questo tentativo Ricordo che è presente il pulsante Powered IS sul lato sinistro dello schermo che è possibile tenendolo premuto avere un'ulteriore funzione di stabilizzatore In questo momento è attiva questa funzione che si disattiva automaticamente lasciando questo pulsante Si nota effettivamente facendo varie prove con il pulsante premuto e senza che la velocità di movimento della videocamera rispetto al soggetto fisico è effettivamente minore con il pulsante premuto Nel caso di grand'angolo, quindi senza utilizzo di zoom anche camminando vedete che non si introducono particolari scatti nella ripresa